Il primo maggio, la festa dei lavoratori! Anche se quest'anno non c'è molto da festeggiare, possiamo comunque andare sulla nostra isola privata, rilassarci e immergerci in un mondo di sogni e speranze, oppure fare attività fisica con Tom Nook e Fuffi. WAHE KUJUBER RITROVATI LA VOSTRO ANDRONINC91 IN QUESTO NUOVO VIDEO DI ANIMAL CROSSING NEW HORIZONS festa del primo maggio, dal primo al 7 maggio su Animal Crossing avremo la possibilità di ricevere una sorpresa o partecipare a un gioco, è più una sorpresa gioco. La sorpresa gioco consiste nell'andare al municipio, parlare con Tom Nook e poi partire con le Dodo Airlines che ci porteranno su un'isola speciale. L'isola speciale è un labirinto, è un grande labirinto che bisogna risolvere superando degli ostacoli o enigmi se preferite. In realtà non sanno avere proprio enigmi, sta tutto nel fatto di sapersi giostrare con gli oggetti che ci vengono dati. Gli oggetti ci vengono dati dalla Tom Nook Inc. perché prima di partire ci vengono totalmente tolti tutti gli oggetti che abbiamo dalle tasche, ci vengono svuotate e potremo avanzare nel labirinto solo con gli oggetti che troveremo lungo il suo percorso. Il primo oggetto che troviamo in una pala ci servirà insomma per scavare buche e magari mangiando la frutta che troviamo appunto mentre avanziamo nel labirinto anche sradicare alberi o rompere rocce. Il labirinto di per sé non è molto difficile e nel caso si rimanga bloccati si può sempre chiamare il soccorso per farsi salvare. In realtà non credo ci sia un gran bisogno di usare il soccorso anche perché non ne vedo l'utilità. Voglio dire ci viene detto che possiamo rimanere bloccati nel labirinto ma non credo sia possibile, sia una possibilità che possa appunto accadere. Però nel caso uno abbia difficoltà può chiamare il soccorso ma il labirinto viene resettato. Quindi in questa maniera avrete magari una seconda possibilità a provare strade diverse e quindi arrivare alla meta al 100% e la cosa più interessante di questo labirinto a mio avviso è Girolamo, quel personaggio che vediamo di spalle vicino ad un fuoco. Girolamo è il personaggio che ci accoglieva ogni qualvolta si iniziasse una nuova vita su Animal Crossing ci veniva chiesto nome, cognome, generalità, tutte quante queste cose così. Devo ammettere che si sentiva la mancanza in questa nuova installazione di Animal Crossing quindi è una bella sorpresa. Insomma superato il labirinto che ripeto a mio avviso può risultare un po' macchinoso ma neanche troppo. è facile alla fine, una volta che l'hai fatto poi puoi farlo in scioltezza senza problemi. Ad ogni modo una volta arrivati da Girolamo ci sarà un piccolo discorso con lui insomma ci dirà ah bravo è superato il labirinto, non ci siamo già visti da qualche parte insomma alla fine di tutta questa cerimonia ci darà una valigia a Girolamo. È un premio speciale e dato che è di Girolamo lo conserverò gelosamente. Sull'isola potremo trovare anche dei coupon miglia che vi consiglio di prendere in modo che potrete poi scambiarli al negozio di Mirko e Marco una volta tornati sull'isola con delle stelline e lì oggetti che troverete o meglio le miglia nook che troverete e la valigia di Girolamo vi verranno recapitate nella casella postale che avete a casa quindi non preoccupatevi se ve le tolgono. Li troverete dentro la cassetta delle poste. Devo dire che quella del primo maggio è stata davvero una bella festa perché comunque sia c'è dato anche la possibilità di rivedere Girolamo che ripeto magari ai neofiti non dirà nulla ma ai veterani di Animal Crossing secondo me ha fatto molto piacere e la sua mancanza si è sentita. In ogni modo Kug, questo video termina qui e spero che vi sia piaciuto. In descrizione come sempre il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye! Bye!